Pareggio per 1-1 fra Pistoiese e Arezzo nella nona giornata del campionato di calcio di Serie C femminile. Ospiti in vantaggio nel primo tempo, arancioni brave a rimontare nella ripresa grazie ad una rete di pompignoli. Sicuramente non è stata la partita che avevamo impostato in tutta la settimana. Dovevamo uscire in maniera diversa, con delle situazioni diverse, invece abbiamo fatto sì che l'Arezzo facesse la Pistoiese. Merito a loro perché sono entrati in campo con un piglio diverso, con un'aggressività diversa a centrocampo specialmente e non ci siamo fatti trovare troppo lunghi in tutte le situazioni che cercavamo di provare a fare. È un pareggio che non ci va stretto perché lo prendiamo molto volentieri a questo punto, però dovevamo sicuramente fare qualcosa di meglio e potevamo anche farlo. Purtroppo avevamo anche delle giocatrici che in settimana non sono andate molto bene per varie influenze e dolori interni proprio e di conseguenza ci prendiamo questo punto, ma insomma abbiamo fatto un passo indietro a differenza delle altre prestazioni. Grazie a tutti.